Dopo aver utilizzato Lightroom in Photoshop per moltissimi anni, ho finalmente trovato un programma che funziona molto meglio per le mie esigenze, ad un prezzo molto più conveniente ed è anche molto divertente da usare. In questo video mostrerò una panoramica di ON1 Photo Raw, la soluzione perfetta per tutte le mie esigenze in termini di fotoritocco e gestione di foto e video. Durante gli anni ho ricevuto domande da utenti che cercavano un'alternativa al Lightroom e Photoshop, in molti casi per evitare il piano di abbonamento e ottenere un'opzione più economica, possibilmente con un prezzo una tantum. Quindi, poiché desidero sempre aiutare la mia comunità, ho analizzato diversi programmi alternativi, come Luminar Capture One, Exposure Affinity. E' stato un bel po' di lavoro, quindi un bel pollice in su sarebbe molto apprezzato. Sono rimasto sorpreso dalla qualità media di questi programmi e dai progressi nell'uso dell'intelligenza artificiale. Mi aspettavo dei tentativi di repliche di Lightroom e Photoshop di basso livello, ma alcuni di questi programmi competono seriamente con l'offerta Adobe, almeno in alcune aree specifiche. Ma nessuno di questi programmi offre una soluzione completa a ciò di cui ho bisogno. L'area in cui sono generalmente carenti è la gestione della mia libreria di foto e ancora di più dei video, che per me è una necessità fondamentale. L'unico programma che offre tutte le funzionalità di cui ho bisogno è OnOne Photo Raw. Ha praticamente le stesse capacità di Lightroom in termini di gestione di foto e video, con l'ulteriore vantaggio che è possibile lavorare sulle foto anche senza aggiungerlo al catalogo, il che è utile in alcuni casi. In questo video non mi addentrerò su come funziona il catalogo e la gestione delle immagini, cose che sono molto utili, ma so che la maggior parte degli utenti trova questo argomento estremamente noioso. Quindi fatemi sapere nei commenti se siete interessati a un video specifico al riguardo. Mostrerò invece una rapida panoramica sulla capacità di editing di questo programma, che offre le funzionalità più interessanti di Lightroom e di Photoshop. Sono rimasto così colpito che ho finito per adottare OnOne Photo Raw come nuovo strumento per sostituire Lightroom e Photoshop. Ho deciso anche di diventare un affiliato, quindi se siete interessati all'acquisto di questo prodotto e utilizzate i link forniti nella descrizione, guadagnerò una piccola commissione che aiuta davvero il canale. Ma la scelta di adottare OnOne Photo Raw è dovuta al fatto che lo considero di gran lunga la soluzione migliore per quello che mi serve. Troverete tutte le diverse opzioni di prezzo nella descrizione in basso. L'interfaccia per la gradazione del colore è simile a quella di Lightroom, ma con diverse opzioni in più. Vi accediamo dall'icona Modifica e quindi dalla scheda Sviluppo. C'è un pulsante di tono automatico basato sull'intelligenza artificiale che funziona abbastanza bene come punto di partenza. Poi abbiamo i soliti corsori per Exposure, Highlight, Shadows, White e Black. C'è anche un cursore in più per i Midtones che trovo molto utile. Il funzione Contrasto funziona molto meglio che in Lightroom. C'è un cursore Struttura per aumentare i micro dettagli e di nuovo funziona molto bene senza creare artefatti. Il cursore Haze è simile a The Haze in Lightroom, ma più delicato e ancora una volta non crea sbavature di colore. Nel pannello dei colori c'è un bilanciamento del bianco automatico che spesso fa un buon lavoro. Ci sono anche due cursori Purity per desaturare leggermente le luci o le ombre in caso di dominanti di colore. La funzione per il denoising si basa sull'intelligenza artificiale ed è la migliore che ho trovato in qualsiasi programma finora. Come si può vedere con un semplice tocco il rumore è completamente sparito senza perdita di dettaglio. E' ovviamente possibile effettuare la messa a punto con i singoli cursori. La funzione per ripiazzare il cielo è estremamente utile e può essere personalizzata in molti modi. Ci sono diversi temi tra cui scegliere aurora, nuvole, drammatico, lunga esposizione, notte, riflessi, primavera, tempesta, tramonto. Per ogni tema sono disponibili molte variazioni. Dopodiché abbiamo una serie di opzioni per la messa a punto. Possiamo spostare il cielo verticalmente, ridurre l'opacità, sfumare il bordo, ingrandire per regolare il motivo, modificare la temperatura e la luminosità, sfocare le nuvole. Possiamo anche controllare come la luce del cielo influenza gli elementi a terra, selezionando la tonalità, l'intensità e la distanza della luce. C'è anche una scelta di Blending Mode, ma suggerisco di lasciarla su Multiply. Da questo tasto si accede ad un modulo specifico per i ritratti. I volti vengono rilevati automaticamente ed è possibile applicare ogni tipo di ritocco della pelle, modificare la luminosità del viso, snellire il viso, modificare individualmente le dimensioni degli occhi. Sono inoltre presenti una serie di cursori per il ritocco degli occhi e della bocca. Ci sono due strumenti principali per la regolazione locale, il pennello e il gradiente regolabile, selezionabili in alto a sinistra dello schermo. Funzionano in maniera simile a Lightroom, ma quando si utilizza il gradiente regolabile abbiamo alcune interessanti opzioni. Possiamo ottenere qualcosa come il filtro radiale in Lightroom ed anche un gradiente riflesso in cui l'effetto viene applicato nei due lati attorno ad una zona interna mobile che rimane intatta. E' una cosa molto utile che mancava su Lightroom. Dopo aver applicato queste regolazioni possiamo accedere alla relativa maschera e perfezionare il risultato. Nel menu a sinistra possiamo cliccare sull'icona ritocca per altre regolazioni locali come pennello correttivo, gomma, pennello ritocco e timbro clone. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per eliminare elementi indesiderati nell'immagine, rimanendo sempre all'interno della stessa applicazione ed in formato RAW. C'è anche la possibilità di aggiungere del testo a un'immagine. Un altro enorme risparmio di tempo rispetto al Lightroom dove è necessario un viaggio in Photoshop. Con questo tasto possiamo accedere a una serie di filtri che permettono di aggiungere ogni sorta di effetto speciale alla nostra immagine. Si comportano come filtri in Photoshop e ognuno di essi è completamente regolabile tramite cursori e contiene i propri preset predefiniti. Potrei fare tutta una serie di video analizzando questi effetti poiché aprono enormi possibilità creative. Ogni effetto ha la propria maschera che può essere modificata per applicarlo soltanto a una porzione dell'immagine. Nella parte sinistra dello schermo abbiamo una scheda di preset che sono costituiti da combinazioni di effetti e possono anch'essi essere regolati e mascherati. Consiglio vivamente di passare un po' di tempo con effetti e preset. Le possibilità sono infinite ed è molto divertente. E' anche possibile aggiungere più livelli in un'immagine per le foto composite. ON1 non solo fa tutto ciò che Lightroom può fare in maniera più completa ma contiene anche molte delle funzionalità di Photoshop con il vantaggio di un flusso di lavoro molto più veloce e semplice, sempre in formato RAW e in maniera non distruttiva. ON1 contiene anche strumenti per HDR, panorama, focus stacking e timelapse. Ci vorrebbe troppo tempo per analizzarli qui, farò dei video specifici se siete interessati. Ma ci sono alcuni aspetti negativi in questo eccellente programma? Beh, in alcuni casi è leggermente più lento di Lightroom e Photoshop, ma il processore grafico del mio computer è un po' datato e questo potrebbe essere il problema. Ho notato a volte alcune piccole sbavature con HDR ghosting e panorama, ma possono essere risolti in pochi secondi utilizzando gli ottimi strumenti di maschera. Fatemi sapere nel commento qui sotto quale programma utilizzate per modificare e organizzare le foto e i video. Cliccate su questo link per vedere il mio video di fotografia con DJI R2S, lo sostituirò con i link per altre recensioni di ON1, non appena le pubblicherò. Non dimenticate il pulsante mi piace se avete trovato questo video interessante.